ciao a tutti oggi prepareremo le tagliate le quattro formaggi il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa ingredienti sono gorgonzola emmental stracchino parmigiano latte e burro andiamo il via alla ricetta siamo alla ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo dritare per 10 secondi a velocità 10 trasferiamo il parmigiano in una ciotola e teniamolo da parte senza lavare il boccale mettiamo l'emmental e azioniamo il bimbi per cinque secondi a velocità 6 aggiungiamo il burro il latte il gorgonzola e lo stracchino facciamo cuocere per 7 minuti 80 gradi velocità 2 nel frattempo facciamo cuocere la pasta in un tegama a parte aggiungere il parmigiano e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 2 la salsa è pronta condiamo la pasta e serviamo tagliatelle ai quattro formaggi grazie e alla prossima ricetta grazie 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 a tutti.